Viaggia nelle amministrative di Rende conoscendo i candidati a sindaco. Sono in nove quelli che si sfidano per diventare il nuovo primo cittadino rendese. Oggi ne abbiamo ascoltati tre. Il sindaco uscente Manna, l'esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Miceli e Sergio Russi Prato. Abbiamo trovato una situazione particolarmente disastrosa da parte del Comune, sia da un punto di vista finanziario ma anche organizzativo, molto molto critica anche per ciò che attiene alla società in house rende servizi e quant'altro. Quindi devo dire che i dati sono oggettivi e li stiamo peraltro rendendo ancora più pubblici. Nel senso che stiamo diffondendo quelli che sono i dati. Abbiamo rimesso in moto questa macchina comunale, l'abbiamo avviata, tantissimi progetti. Dire che va fatta la manutenzione, che vanno fatte una serie di cose, e quell'altro mi verrebbe da dire che non le abbiamo fatte queste cose grazie a voi, grazie ai gruppi di potere che in questo momento si sono alleati fino a ieri, da due anni a questa parte, nel Consiglio Comunale e anche fuori dal Consiglio Comunale, sottoscrivendo documenti. Parlo ovviamente dei gruppi che fanno riferimento a Gentile e a Principe. E oggi si dividono e si presentano dicendo non avete fatto questo, non avete fatto quest'altro. Se non lo abbiamo fatto, la responsabilità è esclusivamente da attribuire a questi gruppi. Noi portiamo dall'acqua pubblica, che è il nostro cavallo di battaglia, per passare alla manutenzione ordinaria di cui c'è tanto bisogno in questa città, a trasporti pubblici efficienti e puliti, ad un'amministrazione trasparente, più trasparente di quella che ci è stata promessa e che non c'è mai stata in tutti questi anni. e soprattutto per riportare il cittadino al centro delle scelte amministrative. Noi non abbiamo mai governato a Rende, mentre gli altri competitor per un motivo o per l'altro, direttamente o indirettamente, sono sempre stati alla guida di questa città. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo continuando a pagare lo scotto degli errori delle passate amministrazioni, anche di quella attuale. E inoltre noi ci presentiamo come la novità assoluta e proponiamo una politica completamente slegata dai vecchi legami col potere e stratificato anche in queste realtà. Sono partito l'11 febbraio del 2017, senza tirarmi indietro, malgrado pressioni anche sui miei candidati, cose che ci stanno nella politica. Non mi scandalizzo, anche perché chi scende in gambo deve mettere in conto queste cose, coinvolgendo una parte della società civile distinta e distante dagli attuali partiti, gente che ci mette per la prima volta la faccia e soprattutto che vuole dare un contributo di qualità. Basta invece vedere le altre liste che a livello numerico mostrano i muscoli, ma se dovessimo analizzarle bene, ci sono molti riembitivi, ecco perché ritengo che noi possiamo essere l'alternativa giusta all'amministrazione manna per qualità, ma soprattutto perché riteniamo di poter proiettare rende verso il futuro.